sparicchiavo ero così giovane e così a pezzi lo zio amedeuccio mi regalava una specie di filosofia la sensazione che la vita non era fatta per essere facile che era una specie di pellegrinaggio una scuola evolutiva e che tutti dobbiamo combattere come guerrieri per essere promossi ma io ero così a pezzi come guerrieri chiesi lo zio amedeuccio annui e affermò solennemente sì perché la condizione umana è un campo di battaglia era un periodo della mia vita in cui mi ero comprato una pistola bernardelli a tamburo calibro 22 e frequentavo il tiro a segno nazionale sparicchiavo al tiro ea qualche bottiglia in campagna ma in realtà mi ero comprato la pistola perché odiavo me e gli altri una sera ero rimasto solo a casa ero seduto sul letto davanti alla finestra aperta smaneggiavo la pistola e avevo una gran voglia di spararmi una gran voglia la stanza era squallida come la mia casa con uno specchio macchiato appeso sopra una mensola dove mia sorella si truccava intorno i manifesti malinconici di cantanti gli eroi di mia sorella un manifesto diceva se tu mi vuoi sono già tuo la faccia del cantante sembrava scolpita nel granito magra e scavata con severi occhi verdi e la mascella sporgente io mossi silenziosamente le labbra quasi a maledire gli interessi di mia sorella dovevo in qualche modo premere il grilletto in qualche modo dovevo usare la pistola ad ogni costo davanti a me c'era la finestra aperta guardai il davanzale sotto il davanzale sopra il pavimento il muro finiva con un bel po di intonaco mirai lì e sparai la bernardelli 22 fece poco rumore e sgretolò l'intonaco a mia madre dissi che era stata mia sorella con le scarpe quando si affacciava di corsa per rispondere alla ragazzo di turno sempre bugie meno male che c'era mio zio a medeuccio quando lo andavo a trovare camminavamo nel sole io abbassavo gli occhi verso di lui mio zio era piccolo mi sorrideva un sorriso simpatico da cui traspariva tutto ciò che ci univa passavamo lungo l'anagrafe un edificio molto vecchio con colonne corinzie che sorgeva lungo una strada laterale in genere cominciavo lì a fargli le domande zio perché io non mi sento mai in accordo con la società o perché mia sorella mi considera un pazzo se le dico che sento l'anima della gente gli facevo tante domande lo zio a medeuccio aveva una specie di tic quando si concentrava univa l'indice il medio della mano destra convulsamente e con le due dita unite si toccava la tempia mia madre mi disse che era la conseguenza dei danni che al momento della nascita gli aveva causato il forcipe con le dita unite sulla tempia mi rispose tu non sei in accordo con il resto della società e sei chiamato pazzo perché non hai identità con la gente come ce l'hai per esempio con me se trattato come un estraneo perché hai sempre più spesso la necessità di stare da solo perché cerchi di adeguarti ad una società che nella media ti è lontana e ti procura sofferenza eppure io ti dico che la colpa di tutto questo è tua concluse lo zio a medeuccio come mia esclamai sì perché non scambi la tua energia con quella degli altri che ritieni inferiori a te quando entri in rapporto con qualcuno ti comporti come un osservatore ma non partecipi al rapporto non scambi te stesso con l'altro credevo molto diversamente dissi il colore dell'anagrafe era di un grigio indefinibile che ben si accordava con il giardino dove giocavano i bambini pieno di foglie secche e trascurato salimmo i gradini di travertino che portavano nel portico lo attraversammo ed entrammo nel gelido ingresso del giardino dopo le parole di zio medeuccio tutto mi sembrò ancora più grigio in pratica io che mi credevo superiore alla media della gente e quindi provvisto di una certa autonomia dovevo rinunciare alla mia autonomia e scambiare me stesso con gli altri certamente disse mio zio e per questa incomunicabilità che la qualità della tua vita è pessima tanto da farti comprare le pistole ok Grazie.